L'appello dei carcerati in una predicazione di un sacerdote che dirigeva un carcere militare e dove vi erano dei soldati della Gestapo. Comunica ai fedeli che questi soldati della Gestapo da oltre un anno non hanno indumenti per cambiarsi e esorta i fedeli a aiutare questa povera gente. Capisco che noi diciamo ma la Gestapo ha fatto morire tante altre persone. Ha agito con crudeltà verso altre persone e adesso bisogna anche aiutarlo. La mattina seguente a questa predica di questo sacerdote francese arriva un pacco con una lettera dentro e dice sono quattro camicie appartenevano ai miei due figli. Un figlio è morto in guerra, l'altro è stato fatto priginiere dalla Gestapo ed è morto di fame e di freddo in un carcere. Avevo queste camicie come una reliquia. Li mando a voi padre perché possiate darle a questi soldati della Gestapo. Amate anche quelli che vi fanno del male. Se noi osserviamo questa volontà di Gesù il mondo sarà più bello e non ci saranno più guerre, non ci sarà più l'invidia, non ci sarà più l'egoismo. Perché noi ci domandiamo gli ebrei aspettavano il Messia? Semplice. Volevano che il Messia mettesse giustizia sulla terra, spazzasse via tutti i ladri, i delinquenti, gli omicidi, tutti coloro che si comportavano male, tutti a morte. Questa è la missione del Messia per gli ebrei. E poi occupare tutte le nazioni che circondavano la Palestina e diventare i dominatori del mondo. Questo è il pensiero degli ebrei del tempo. Per cui quando Gesù bussa a Betlemme era chiaro che gli ebrei non potevano accettare quel Messia e chiudono le porte. Gesù viene per andare in cerca della pecorella smarrita. Dio è contrario al peccato, ma ama il peccatore. Ce l'ha testimoniato in modo particolare il perdono a Caino, ha ucciso il fratello e Dio dice ti darò un timbro che nessuno potrà farti del male. Dio ama Caino e condanna il suo peccato. La testimonianza di vita di Padre Pio sta proprio in questo, andare in cerca della pecorella smarrita. Per lui non è esistito l'orologio, né notte né giorno. Ricordo di essere andato di mattina presto a confessarmi perché era l'unico tempo adatto e alle tre di notte Padre Pio era già seduto al tavolino a recitare l'ufficio divino. Ecco allora la testimonianza di Padre Pio che ci invita ad andare anche noi in cerca della pecorella smarrita, in cerca anche di chi ci ha fatto del male perché noi potessimo fare tanto del bene a lui. E così possiamo vivere il vero Natale. Grazie a tutti.